Scusate, Giovanni, non lega ciò di un borsellino, no? Un borsellino. Non mangiro questo borsellino, no? No. Non ha sparito, non ha sparito. Non lo sa. No, niente, stavo alla festa qua, qui c'è a colinido. Ma perché qua c'è sempre uno, magari a me, 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 a me. A me, 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 a me. Sopri, 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 sopri! Sopri, 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 sopri Il grande problema è pronto, sono a morire, è sparito Il cellulare inizia e è sparito, è stata con la tua mamma e il bambino E' sparito E' sparito